Sono Francesca, sono una volontaria della pubblica assistenza di Forlì da 4 anni e anche in questa situazione sto cercando di dare il massimo e di dare una mano per quanto il mio potere. Da quando hanno un po' riaperto sono subito venuta qua perché la pubblica aveva bisogno comunque di rimettere in moto la sede, di pulirla, di mettere in moto le ambulanze e comunque di riuscire a dare il proprio sostegno non solo alla nostra associazione ma a tutta la società. Una cosa che scalda veramente il cuore è la solidarietà che ho visto in questi giorni tra le persone, tra i giovani che veramente mi riempie il cuore perché nonostante la situazione sia disperata magari un sorriso in 12 ore di spalo di fango ti esce perché siamo tutti qui per lo stesso motivo. Siamo tutti a sparare del fango per riuscire a risollevarci, quindi cerchiamo di tenere botta e dai! Grazie!